Siamo al liceo Volta, com'è andata la terza prova? Ma normalmente, nel senso che non era impossibile, però non era neanche regalata, per cui alla fine... Quindi te l'aspettavi più difficile? No, diciamo che era calibrata, almeno nel mio caso, ma ho parlato anche con altri... Com'era strutturata questa terza prova? C'erano una domanda per ogni materia, per cinque materie, che poteva essere o una trattazione sintetica oppure una trattazione più lunga, quindi tipologia A o B, e dovevi rispondere in base al programma svolto nell'anno. Quindi sei soddisfatto? Sì, abbastanza bene. Ma bene, abbastanza bene, credo. Non era troppo difficile, almeno io non l'ho trovata troppo difficile, era fattibile. Ecco, in classe il clima come era tra i tuoi compagni? Ma adesso non lo so ancora, sono usciti anche solo due o tre persone della mia classe, che hanno detto che sì, comunque alcune materie erano fattibili, altre materie un po' più difficili, le domande, però comunque le complesse erano troppo difficili. Com'è andata la terza prova? Ma speriamo bene, domande alcune difficili, però speriamo, dai. Ma te l'aspettavi così difficile? No, sinceramente un po' più semplice. Un po' più semplice, sì. In classe com'era? Eravate comunque tranquilli? Ma molta tensione prima e anche durante, quando abbiamo dato la prima lettura alle domande. Però poi con il passare del tempo ci siamo un po' tranquillizzati e siamo riusciti a tirar fuori quello che sapevamo, insomma. Sei soddisfatto comunque? Sì, adesso rimane solo l'attenzione di sapere come è andata e la valutazione. Siamo alle magistrali, come è andata la terza prova? Ma, bene, diciamo. Però sì, si aspettava queste materie anche se le domande erano un po' troppo specifici. Quindi sei soddisfatto? Sì, in generale è abbastanza. Ecco, in classe com'era il clima? C'era la tensione? Sì, è normale, ogni prova alla fine c'è la sua tensione, però alla fine anche i professori sono molto disponibili a aiutarci. Te l'aspettavi più facile o più difficile? Più facile. Sinceramente me l'aspettavo più facile. Com'era? Cioè, sei soddisfatta o...? Per alcune materie sì, per altre no. Com'era in classe la, diciamo, c'era la tensione, i professori... Sì, abbastanza, qualcuno ha pianto. Addirittura? Sì, però i professori ci hanno aiutato. Qualcuno che ha copiato... No, non ci ha lasciato a copiare, quello no. Erano in mezzo come carabinieri. E ieri sera com'è andata? Eri tesa... Terribile. Terribile? Vabbè, mi son calmata col temporale. Qua è andata bene, dai. È andata, è andata. Ho sentito che alle magistrali qualcuno piangeva addirittura. Come l'avete trovato questo esame? No, dai, era fattibile. Fattibile? Sì, sì, però piangere no. Quindi eravate tranquilli? Sì, tranquilli, tranquilli. Sei soddisfatto del tuo esame? Sì, beh, però adesso sembra che stia andando bene.